buongiorno a tutti sono andrea spinazzola e oggi vi faccio vedere alcune novità introdotte nella versione di adobe photoshop cs6 vi ricordo che questa versione è disponibile gratuitamente per il download dal sito labs punto adobe.com come mai è possibile scaricare gratuitamente photoshop cs6 perché è una beta pubblica ovvero adobe ritenuto opportuno che gli utenti potessero vedere in anteprima le novità introdotte nella prossima versione di adobe photoshop quindi andiamo sul sito labs punto adobe.com ecco che come vedete in primo piano abbiamo proprio photoshop cs6 beta clicchiamo sul link e qui vediamo in anteprima diciamo la veste grafica della nuova release e un riassunto del contenuto oltre a dei link che rimandano appunto dei video di russell brown e scott kelby che spiegano ed elencano tutte le novità introdotte in questa release ovviamente io vi faccio vedere le cose che a me più interessano e più piacciono e quindi in questo caso vi parlerò di 3d ci sono ovviamente molte novità incominciamo quindi aprendo subito un file come vedete una texture con texture pietra su questo livello andiamo ad aggiungere un testo quindi scegliamo lo strumento di testo e scriviamo stone spostiamo questo livello centriamo ritorniamo sullo strumento di testo adesso notate una cosa nella barra dell'applicazione abbiamo questo pulsante 3d ovvero selezioniamo il testo clicchiamo su questo pulsante ecco che in pochi secondi abbiamo creato una estrusione sull'oggetto quindi quel testo adesso è un oggetto veramente 3d faccio notare come anche tutta l'interfaccia relativa alla scena 3d è cambiata vediamo subito come default il piano 3d e questo piano si estende anche oltre al nostro canvas quindi va all'esterno del formato del documento in più abbiamo un pannello che indica la vista ci dà un'anteprima una preview sulla vista che possiamo chiaramente cambiare riportiamo adesso come vista dall'alto vi faccio notare un'altra cosa nel pannello degli strumenti sono scomparsi gli strumenti relativi agli oggetti 3d e alla scena 3d questo per meglio razionalizzare l'utilizzo degli strumenti stessi infatti prima era spesso era facile come dire confondere gli strumenti quanto erano praticamente simili solo che una serie di strumenti serviva per modificare gli oggetti e un'altra per modificare la scena in questa release tutti gli strumenti sono disposti nella barra dell'applicazione e abbiamo un'unica serie di strumenti quindi abbiamo ruota ruota attorno all'asse sposta sposta sull'asse z quindi in profondità e scala e come possiamo quindi modificare gli oggetti la vista con un'unica serie di strumenti molto semplice è sufficiente selezionare l'oggetto in questo caso vogliamo modificare la scritta tridimensionale e andiamo quindi a modificare o a ruotare questo oggetto diversamente se clicchiamo sullo sfondo andiamo a modificare in questo caso a ruotare tutta la scena 3d vi dirò di più è possibile cliccare direttamente sulla luce vedete questa è la luce che illumina la scena e anche in questo caso andiamo a modificare la rotazione andiamo a spostare questa luce davvero interessante proprio l'interattività e la facilità di utilizzo un piccolo trucco è quello di selezionare le luci e andare a modificare direttamente l'ombra quindi mi posiziono sull'ombra premo il tasto shift vedete che cambia il cursore clicco e trascino questa volta invece di spostare la luce sposto direttamente l'ombra questa cosa risulta interessante in molti ambiti grafici perché a volte più semplice capire dove deve andare a cadere un ombra piuttosto che come spostare una luce clicchiamo ancora sul nostro oggetto e andiamo a vedere che cosa accade nelle proprietà di questo oggetto il pannello properties è un'altra novità di photoshop ed è molto utile perché è contestuale cioè cambia in funzione del contenuto che ho selezionato vi suggerisco di impostare da subito un'area di lavoro 3d maniera tale che tutti gli strumenti necessari vengano subito esposti questo caso quindi il pannello properties e il pannello 3d nel pannello properties avendo selezionato l'oggetto è possibile cambiare il punto di riferimento per le deformazioni aumentare o ridurre l'estrusione ok scegliere un preset per quello che riguarda il bival cioè il bordo di questo oggetto in questo caso scegliamo appunto uno smusso andare a modificare le impostazioni di deformazione quindi possiamo fare un'estrusione come abbiamo visto prima o un twist selezioniamo ancora l'oggetto ecco qua vedete quindi una deformazione intorno all'asse centrale azzeriamo vedete vado a modificare l'estrusione ok e anche una deformazione quindi una sorta di in inglese definito taper quindi una posteriore o anteriore della dell'estrusione ok riportiamo anche questo valore al cento per cento o clicchiamo sul pulsante reset deformation in questo modo andiamo a resettare tutte le deformazioni comprese anche diciamo il preset sull'estrusione che adesso invece andiamo a rimettere andando avanti possiamo modificare addirittura l'estrusione scusatemi il bordo quindi in maniera molto precisa cambiare l'altezza e l'angolo dell'estrusione o il tipo di forma quindi il contorno andiamo a ridurre un po' la dimensione quindi andiamolo meno meno evidente proseguendo possiamo modificare le coordinate eccetera insomma qui possiamo veramente fare molto sul nostro oggetto